Sì, è bella, bellissima, bella, 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 ce n'è una bella simile, con questa, con questa, è la, Peppa, È il momento, è la cosa, di piabbiamo, una cosa, di criare, inındaki, è la, climate, la città, una cosa, di gente, è la questione, molto bene, molto bene, molto bene, molto bene, yeah! Ce n'è un altro puntino, ci mettiamo in cerchio proprio vicini uno all'altro e ci vediamo la gamba destra davanti alla gamba sinistra del vostro compagno la gamba destra davanti alla gamba sinistra del vostro compagno la gamba destra davanti alla gamba sinistra andiamo partendo a destra la, 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 la E' una specie di zoo, noi chiamo l'asino, la risata dell'asino. E' una specie di zoo, noi chiamo l'asino, la risata dell'asino. E' una specie di zoo, noi chiamo l'asino, la risata dell'asino. Troppo prendo, troppo prendo, ieri! Mi sta passando, andiamo a lui. Allora, lui mi ha immaginato la scena classica, invernale, quando c'entrava la mattina e prima qui la finestra, e poi la retta. E lui mi ha immaginato semplicemente così, prima la finestra. E' una specie di zoo, e' una specie di zoo, e' una specie di zoo. E' un po' di importante. altro invernito vai la risata dell'ottorino hè lato al he lato oh he not ok Molto bene! 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 Molto bene ahahah ahahah molto bene molto bene bene altro gruppo ultimo come come quando stiamo oltre il sito si 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 quindi semplicemente qua si si a 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